Le giornate soleggiate registrate alla fine della scorsa settimana ci avevano forse fatto dimenticare che siamo in inverno. A rinfrescarci le idee ci ha pensato la perturbazione che si è abbattuta sull'isola a partire da lunedì. Il cielo limpido e terzo è stato coperto da nuvoloni grigi, le temperature primaverili fino a qualche giorno fa sono improvvisamente crollate. Forti raffiche di vento si sono abbattute in diverse aree della Sicilia occidentale, in più sono state registrate precipitazioni più o meno violente e in qualche caso brevi, ma dannose grandinate. Chichi grandi come i limoni, scrivono i tecnici della Col di Retti che effettuano un costante monitoraggio del territorio, si sono abbattuti sulle serre del Ragusano e del Catenese in Sicilia con gravi danni ai coltivatori per gli ortaggi in serra ed in pieno campo. Per gli agricoltori è preoccupante anche il mutamento delle condizioni climatiche diventate sempre più estreme. Se è vero infatti che il maltempo mette serio rischio alla produzione di ortaggi è vero anche che le anomale temperature primaverili registrate a fine anno hanno stimolato le gemme dei alberi da frutto che potrebbero fiorire fuori stagione. Le previsioni non sono confortanti per la seconda parte della settimana, le temperature sono date in diminuzione anche di 4-5 gradi con l'aumento delle precipitazioni e dei fenomeni temporaleschi.